DIA LOGANDO, DOMANDE ALL'ORIGINE DEL PENSIERO Oggi parliamo con il professor Giovanni Giorgini, docente di filosofia della politica e storia delle dottrine politiche presso l'Università degli Studi di Bologna. Come avveniva l'educazione ad Atene e Sparta? Come avveniva l'introduzione allo studio della filosofia per i giovani? E come si collocava la politica nella vita dei greci? Le nostre fonti ci presentano Sparta e Atene come due modelli assolutamente alternativi, due modelli di organizzazione politica e due modelli anche di educazione dei giovani e dei cittadini assolutamente differenti. Sparta che noi conosciamo attraverso diversi documenti che vanno da quelli più arcaici che sono le poesie ad esempio di Tierteo, questo poeta guerriero, alla costituzione degli spartani di Senofonte e mostrano un modello politico molto peculiare nel senso che Sparta era governata da una ristrettissima oligarchia di spartiati che governavano una popolazione ridotta in stato di semischiavitù, cioè dotata di diritti civili ma non politici, chiamati perieci, e poi un'enorme popolazione di schiavi chiamati iloti. C'è una frase terribile, intucidide, nella quale si dice che gli iloti, quindi una parte della popolazione di Sparta, viveva continuamente come in agguato sperando in un rovescio dei loro governanti. Quindi gli spartiati vivevano come un piccolo gruppo armato in maniera formidabile circondato da una marea di nemici. Ho fatto questa premessa perché il modello di educazione spartano che noi conosciamo ha a che fare soprattutto con questa ristrettissima oligarchia degli spartiati che veniva educata fin da giovanissimi fondamentalmente a due cose. Innanzitutto è di identificarsi completamente con il corpo civico degli spartiati, cioè c'è un'identificazione totale dell'individuo spartiate con la sua comunità di appartenenza. E in secondo luogo una fortissima educazione militare. Addirittura una volta all'anno, in maniera tradizionale e probabilmente poco più che metaforica, gli spartiati dichiaravano guerra formalmente agli iloti. E noi sappiamo da Plutarco, da altre fonti, che una delle pratiche dei giovani spartiati era quella della cripteia, e cioè delle uscite tra giovani di notte per andare nei villaggi degli iloti a uccidere di notte gli iloti. Questo per dare un'idea di come fosse un'educazione fortemente guerriera, è un'educazione che cercava di creare questo spirito civico nel giovane spartiate. Questo fin dai tempi più antichi, in Tirteo, il poeta Tirteo, elogia il giovane che è morto per la sua patria, rimanendo saldo al proprio posto, al proprio posto nella falange. Quindi l'educazione spartiata è di questo tipo. Aristotele, che quando nella politica esamina il modello educativo spartiato, gli trova fondamentalmente questo problema. È tutta un'educazione mirata a creare uno spirito guerriero. Quando non ci sono guerre, no? Gli sparta si trova in difficoltà. Quando viene sconfitta in guerra, l'intero sistema più o meno crolla. Atene è molto diversa. Atene ha innanzitutto questo primo esperimento democratico, cioè questo primo esperimento di allargamento della partecipazione politica a tutta la popolazione, ovviamente di maschi, adulti e liberi. E' quindi questo tentativo di allargare la base di consenso e di partecipazione alla città. L'educazione riflette questo sistema politico. Uno dei nostri documenti, che naturalmente noi dobbiamo interpretare sapendo qual è il contesto, cioè una orazione pubblica, un epitafio, un'orazione funebre, è l'orazione funebre che Tucidide fa pronunciare a Pericle nel primo anno della guerra del Peloponneso, nel secondo libro della sua storia della guerra del Peloponneso. E lì Pericle vuole mostrare come gli Atenesi sono così valorosi perché hanno una costituzione, che è una costituzione unica nella Grecia dell'epoca, con una costituzione democratica, delle leggi, leggi democratiche, che consentono esattamente all'opposto di quello che avviene a Sparta a ciascun cittadino di vivere come vorrebbe nel privato e consentono a ciascun cittadino, se ha qualcosa da dire, se ha un piccolo apporto da dare alla comunità politica, di farlo indipendentemente dalla sua condizione economica, dal suo status di aristocratico o meno. E quindi in quella grande celebrazione che ha l'orazione funebre di Pericle, noi vediamo che il modello educativo atenese, almeno così come esaltato da Pericle e ripreso da Tucidide, è un modello educativo che cerca di formare un cittadino che non soltanto si identifica con la propria città, ma che ama il bello, ricerca la felicità nel privato come preferisce e poi però contribuisce sempre alla vita pubblica e alla felicità della città.